cocco bello chi mangia cocco bello ce l'ha duro e ce l'ha bello signora si faccia avanti gli faccio assaggiare il cocco bello ti infila caro io te l'ho già detto che per legge non è tabaccheria vero se non si può riprendere è già la seconda volta che ti lo dico questa è la legge ma io riprendo me stesso cara tu riprendi anche dietro ma sto riprendendo me stesso qua in obliquo ci sono le telecamere della tabaccheria ci sono tutte queste cose qua e cosa riprendo le luci del soffitto mi faccia capire io te l'ho già detto ma sono venuto già altre volte ho preso tutto quello che dovevo prendere senza problemi che problemi mi fa sto giro mi scusi oggi si è svegliata male ha deciso che deve riprendermi ma l'altra volta sono venuto qua con la telecamera non è non è successo niente scusi no era lei perché me lo ricordo bene no dovrei prendere in verità volevo chiedere se aveva una stecca di gratta e vinci da 100 per una stecca proprio da 300 non si possono pagare con la carta vero si si possono pagare con la carta non è che sto adesso va bene che sono un disturbatore seriale ma sto giro non ho fatto niente sono venuto qua perché sto lavorando perché devo farla vero e devo comprare gratta e vinci c'è c'è una legge io ti sto dicendo che per legge tu non puoi entrare con qualsiasi cosa che riprenda all'interno vabbè allora metto il telefono in tasca ma sto riprendo la mia faccia ed il soffitto cioè non è che sto riprendendo dati sensibili quanti quanti sono dentro scusi sono 15 da zero 15 da 300 euro ok sono i poteri miliardari da 10 allora che sono 30 che sono sempre 300 euro si 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 sempre 300 euro lo so lo so lo so è la stecca devo prendere infatti no ma sai cosa mi disturba quando uno dice le cose poi non viene mai cagato è quello che mi dice ma l'altra volta sono entrato qua dentro non sono io c'è una che mi assomiglia ma non sono io con me che ho già detto che la telecamera è accesa io non la voglio cioè insisti vabbè io la prossima volta che ti vedi facciamo prima va bene beh i vigili perché sto riprendendo me stesso perché è contro la legge entrare in una tabaccheria e fare qualsiasi tipo di ripresa ah se stessi come se mi stessi facendo una foto di entrare a tabaccheria no perché tu si esatto non è non è legale farla va bene vatti a leggere la legge vabbè io volevo solo comprare una stecca di grette di vince l'ho fatto pure per fare un po' di soldini signora non si preoccupi buona serata buona serata arrivederci ah ragazzi è marco riazzi io volevo solo comprare la mia stecca di grette di vince e basta volevo solo comprare la mia stecca di grette di vince comunque è bellissima raga eh bellissima 300 euro 300 euro tutto sto blocchetto qua